è arrivato il momento di spegnere le candeline una bellissima torta per i suoi 80 anni alla festa a sorpresa la solita ciamatte lì lo dovevo immaginare ma non l'ho veramente immaginato sono arrivato qui e vedervi e sentire il vostro urlo credo che non lo dimenticherò mai grazie grazie di vero cuore robbie ha fatto un bellissimo discorso ancora tanti tanti auguri 80 anni altri 100